Ma tu che fai tutto il giorno? Niente, sto a casa E prima che facevi? Ero maestra a Rivisondoli Ah, Rivisondoli, e dove sta? Di là E poi? E poi ho conosciuto Jimmy E in due mesi mi sono sposata A me sti matrimoni così in fretta non me vanno Prima la donna bisogna conoscerla Sapessi che dritte che sono le donne Certo, non tutte Già, non tutte Guarda a me, per esempio Perché? Come vorresti essere? Lasciamo perdere, Raffaele C'hai un po' paura delle donne, tu, eh? No, non è che c'ho paura È che non mi fido, ecco Prima te fanno la moina finché non c'è caschi E poi se ne fregano Tanto pensano Il frescone me va bene E voi uomini non siete uguali? Io sono uno che fa sul serio Beh, se è così Perché non metti su famiglia allora? Io se conoscessi una donna come te La farei la pazzia di sposarmi in due mesi E sarebbe un errore L'hai detto tu poco fa Ed è vero Grazie a tutti